Il calcio finisce nel caos, superata la prima fase, quello dello stop ai campionati, con più di una squadra in quarantena dopo i casi accertati di Rugani della Juventus e Gabbiadini della Sampdoria, è il tempo di capire cosa succederà quando tutto tornerà alla normalità. Il punto interrogativo più grande è proprio questo, quando tutto tornerà alla normalità? La Lega di A ha già previsto varie ipotesi, mentre la C è disposta a giocare fino a fine giugno a metà luglio. Possibile che per entrambi i campionati possa arrivare un prolungamento d'ufficio dei contratti dei calciatori, almeno fino a luglio. In Serie A le ipotesi sono tre, cristallizzazione dei campionati, quella meno concreta, play-off e play-out per scudetto e retrocessione, ma ha già trovato l'opposizione del Lecce, con Sticchi Damiani che ha espresso parole dure su questa soluzione, e del Genoa, e la possibilità di andare avanti fino a fine giugno o a metà luglio, se si dovesse riprendere a giocare almeno ad aprile. Ma quest'ultima opzione sarebbe possibile solo se gli europei venissero congelati e riviati alla prossima estate nel 2021, così come suggerito da diversi addetti e lavori alla UEFA, che al momento però resta l'anello debole del sistema e va in confusione con le partite che ieri si sono giocate regolarmente in Europa League, tra porte aperte e porte chiuse. La Lega di A, intanto, si riunirà in videoconferenza, ma la soluzione sembra ancora molto lontana, mentre ieri è stata accesa la fiaccola olimpica per Tokyo 2020, un'accensione surreale con appena 100 persone presenti.